Siracusa, pusher, viola i domiciliari e i poliziotti lo traducono in carcere. Continua la quotidiana azione di contrasto alle piazze dello spaccio siracusane che ha permesso nella giornata di ieri di arrestare Giuseppe Di Maria, 53enne, già sottoposto agli arresti domiciliari in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Siracusa. Lo scorso 12 gennaio infatti gli agenti della squadra mobile hanno arrestato Di Maria colto nella flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti essendo stato trovato in possesso di droga, 21 grammi di cocaina e 1 grammo di marijuana e di 260 euro frutto dell'attività di spaccio, nonché di materiale per il confezionamento. Nell'immediatezza lo stesso è stato ricollocato agli arresti domiciliari e successivamente in sede di convalida dell'arresto il GIP ha disposto la custodia cautelare nel carcere di Capadonna.